GF VIP7, Gwendalina Tavassi Donna Maria insieme a Murgia. All'interno della casa del grande fratello VIP7 starebbe nascendo un nuovo triangolo amoroso formato da Nicole Murgia. Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi. Sui social, Gwendalina Tavassi, sorella di Edoardo, ha confidato che non le dispiacerebbe vedere Nicole insieme a Donna Maria. Di conseguenza, si è augurata che Antonella Fiordelisi venga eliminata al televoto della 37 puntata per far sbocciare il feeling fra Donna Maria e Murgia. Lo scorso mercoledì 22 febbraio, nella casa è accaduto qualcosa che ha spaccato gli equilibri, Tavassi. Donna Maria, Nicole e Nicole hanno trascorso l'intera notte nel van e deludendo i microfoni si sono scambiati confidenze intime. Da quel giorno i telespettatori del grande fratello VIP hanno notato una certa complicità fra Donna Maria e Murgia, in più occasioni. Edoardo sembra cercare una carezza da parte della coinquilina. Inoltre la stessa Nicole ha confidato a Giaele che nel van il giovane volto di forum avrebbe cercato di baciarla. Non ci sarebbe nulla di male se Edoardo fosse single. All'interno della casa però il giovane si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi e sebbene la conoscenza stia vivendo un momento di crisi. La coppia non ha ancora definitivamente chiuso. Il feeling tra Edoardo Donna Maria e Nicole Murgia non è passato inosservato a Gwendalina Tavassi. La giovane sui social ha lasciato intendere di voler vedere sbocciare la passione tra i due. Quanto sarebbe bello fare uscire Antonella domani sera? Se la facessero uscire secondo me quei due. Punto. Tra la sorella di Tavassi e Fiordelisi non corre buon sangue. Poco dopo l'ingresso di Edoardo. La show girl è arrivata nella casa per una sorpresa al congiunto e per un confronto scontro con Antonella, in quell'occasione le due hanno iniziato a defendersi sull'aspetto fisico e sui titolo di studio di uno e dell'altra. Gwendalina crede che Antonella sia falsa e sia pronta a tutto pur di emergere all'interno delle reality show. Nel frattempo, lunedì 27 febbraio il grande fratello VIP7 perderà un altro concorrente, al televoto eliminatorio questa settimana si trovano Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzon, Orana Marzoli, Nicole Murgia, Edoardo Donna Maria, Nicole Incurvaia e Edoardo Tavassi. Gli ultimi quattro vipponi sono finiti i nominati on d'ufficio per via di quello che è accaduto all'interno del van, la produzione in comune accordo con Alfonso Signorini ha optato per un provvedimento disciplinare per aver infranto il regolamento del programma. Per questo motivo che Gwendalina Tavassi sia augurata l'eliminazione di Fiordelisi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.